amici di youtube buongiorno a tutti benvenuti all'apertura della bussina 13 oggi è 13 dicembre prima di iniziare una piccola rettifica il vincitore di ieri non era come avevo scritto io erroneamente sul bigliettino marco cusumano ma marco casumano avevo sbagliato a scrivere ad ogni modo ho poi controllato la mia lista e non c'erano nomi simili quindi abbiamo risolto quindi se strago un bigliettino e il cognome non corrisponde esattamente al vostro contattatemi perché può essere che ho sbagliato io detto questo bigliettino 13 oramai il calendario si sta svuotando siamo a metà del percorso si sta anche smontando oltre che svuotando dovrò inserire nuovi arredi e questa è la nostra bustina numero 13 andiamo ad aprirla e vediamo che cosa contiene anche oggi abbiamo una singola carta il premio di oggi è un detective pikachu cioè un pikachu detective pikachu dell'espansione detective pikachu holo lo tiro fuori un attimo perché si vede meglio anche questo è anche questa è una carta mint nuova solo sbustata andiamo a vedere chi ha vinto la carta oggi mescolatura anche oggi abbiamo nuovi partecipanti cioè ieri si sono iscritti al calendario di oggi ho fatto casino oggi chiudiamo il barattolone fermiamo la pallina mentre apro vi volevo dire che nel prossimo fine settimana presento anche l'evento speciale natale bimbi così poi vi spiego tutto chi ha bimbi che è scritto cioè tutti i bambini e tutti quelli che hanno bambini possono iscriversi al progetto cioè alle estrazioni all'evento speciale ci saranno altri premi e oggi the winner is daniele boldoni quindi daniele boldoni spero sia giusto il nome il cognome siano giusto il nome il cognome daniele boldoni vince questo detective pikachu il detective pikachu quindi daniele mi puoi contattare come sempre instagram in descrizione e lasciarmi i dati per la spedizione chi si vuole iscrivere al calendario a partire da domani 14 dicembre lo può fare sempre lasciando un commento sotto il video ci vediamo penso forse già stasera massimo domani devo montare il video della lampada di pikachu e poi aprirò il box climax v max non vedo l'ora ho visto in giro dei video con god packs cose meravigliose cioè non sapevo che in giapponese in alcune espansioni speciali tipo questa si può trovare questo god pack con dentro tutte le tutti gli allenatori c'è tutte carte ultrarare una cosa meravigliosa e quindi aprirò questo box e con ancora più entusiasmo intanto una buonissima giornata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti